Il 22 giugno scorso i radicali hanno presentato in Cassazione sei proposte di legge. 50.000 firme sono quelle che vengono richieste ai cittadini e ci sono sei mesi di tempo. Tra le proposte il sex work e l'aborto. Sì, tra queste il sex work e l'aborto perché in Italia purtroppo l'aborto non è garantito in tutte le strutture quindi serve una legge diversa da quella della 194 e su questo stiamo raccogliendo le firme. Per quanto riguarda il sex work, decriminalizzazione perché oggi il sex work è mano alle mafie. Per combattere le mafie bisogna decriminalizzare. Si parla tanto di energia sostenibile ma ci sono dei limiti importanti tra questi i conflitti istituzionali. Che cosa si potrebbe fare? Noi dobbiamo raggiungere 72 gigawatt di potenza da rinnovabili entro il 2030. Per fare questo dobbiamo dare la competenza esclusiva allo Stato e dobbiamo escludere le regioni che sono il vero quello di bottiglia. Il suolo è prezioso, lo stiamo imparando anche grazie alle dirette europee. Qual è la vostra prospettiva? Ma una legge in Italia sul suolo non c'è. Noi siamo la prima forza politica che dà via una raccolta firme su questo argomento così importante. È un argomento così importante e lo stanno vedendo anche tutti i cittadini in questi anni purtroppo. I debiti dello Stato nei confronti delle imprese supera i 60 miliardi di euro. È così difficile pensare ad una compensazione? No, non è difficile. Noi abbiamo e sentiamo l'urgenza di far crescere le imprese perché tra il 90 e il 95% delle imprese italiane parliamo di piccole e piccolissime imprese. Per aumentare la produttività le imprese devono crescere. Questo lo si deve fare anche attraverso la compensazione dei debiti dello Stato verso le PMI. Cosa vuol dire garantire un reddito minimo sociale? Beh, garantire un reddito minimo sociale vuol dire far uscire dalla povertà buona fetta della popolazione italiana. Soprattutto al centro-sud c'è un grande problema di povertà e quindi noi vogliamo aiutare queste persone a uscire dalla povertà anche attraverso il lavoro. Il mio personale invito è di firmare le proposte di legge, le sei proposte di legge ai banchetti radicali ma di firmarle anche attraverso il nostro sito quindi online radicali.it slash firma.